Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sottoposto a sequestro tra Gragnano, Pompei, Santa Maria la Carità e Casalnuovo 29.000 mascherine prodotte senza alcuna autorizzazione ministeriale. Nel corso della prima operazione le fiamme gialle della compagnia di Castellammare hanno controllato un'attività di commercio all'ingrosso di articoli medicali di Gragnano, all'interno della quale erano esposte 100 mascherine FFP2 prive delle istruzioni per l'uso in lingua italiana e carenti dei requisiti previsti per quel livello di sicurezza. Le attività si sono poi estese a Pompei al deposito della stessa società dove sono state scoperte ulteriori 21.500 mascherine della medesima tipologia. Gli stessi finanzieri, nel corso di una seconda operazione, hanno riscontrato che una società operante nel settore del commercio al dettaglio di prodotti via internet, con sede a Santa Maria e la Carità, aveva messo in vendita 2.800 mascherine sulle cui confezioni erano riportate solo scritte in lingua cinese ed inglese. Anche in questo caso il materiale è stato sottoposto al sequestro e il titolare, un 46enne del luogo, è stato sanzionato per volazione al codice del consumo poiché i dispositivi erano privi delle obbligatorie indicazioni e delle avvertenze per il consumatore in lingua italiana. Infine le fiamme gialle della compagnia di Casalnuovo di Napoli hanno sequestrato nel corso di un controllo nei confronti di un ambulante 4.500 mascherine e 22 tute protettive prive di certificazione e di ogni garanzia di protezione per il consumatore. Sanzionato un quarantenne di Casalnuovo di Napoli per esercizio abusivo di attività commerciale.